Votiamo il momento più epico di Dragon Ball, finale troppo difficile, Wufufu con Tuberanza e Blazzi. Tornare. In questa serie What If, nel corso del tempo, ho raccontato nuove storie per Goku e i suoi amici che raccontano ad esempio di Zai col figlio segreto di Goku e tanti nuovi nemici come... Non è un figlio segreto di Goku, comunque è un figlio illegale, ma nel senso che gli hanno tirato via il sangue a Goku e ci hanno fatto un figlio. In questo senso qua. Meardos e il Daishinkan. Ci saranno nuovi film che racchiudono le stagioni già uscite in passato e poi arriverà anche una nuova storia mai raccontata prima, che rappresenta la quarta stagione tanto richiesta negli anni. Dragon Ball AF inizia il 29 ottobre qua sul mio canale, ogni domenica alle 14. Mettetevi la sveglia e attivate la campanella delle notifiche per... Sto correndo. ...per non perdervi questo grande ritorno. Qual è il miglior momento di tutto Dragon Ball e... Allora, aspettate, mi metto... Allora, io mi metto... Mi metto qua perché ci sono tutti e quattro loro, mi faccio anche più piccolo, mi metto lì. Dragon Ball Z lo andremo a scoprire oggi insieme tramite Uwfufu insieme a Tube e Blazzi. Ciao ragazzuoli, benvenuti. Ciao ragazzi, buongiorno... Senza alcuna voglia di farlo. Sera. Buon Sirgio. Ragazzi, oggi ritorniamo su Uwfufu, dopo comunque un grande riscontro rispetto al video precedente. E andiamo subito, non ci perdiamo in chiacchiere. Dobbiamo scegliere il momento migliore tra... Lasciate un po' tuttissimo like se volete altri video come questi, perché signori ce ne sono veramente tantissimi da fare. Lo dico io perché Giuseppe già vi sta... Io ero già a decidere. Allora, qual è il migliore tra questi due momenti? È un vero torneo, poi si deciderà alla fine qual è il migliore. Trunks che divide a metà Freezer, oppure l'arrivo di Goku che salva Gohan dall'attacco di Nappa? Col Kaioken, vi ricordo. Per me... In realtà nel doppiaggio italiano sbagliato dell'Ane diceva... Energia sferica, via! E l'arrivo di Goku che salva perché vedere Freezer morire non è mai una cosa bella. Vabbè, questo è di parte però. Eh, vabbè, sei di parte. Eh, sono di parte, sì. Qui sono molto combattuto, il Kaioken mi piace tantissimo, ma... E lo abbiamo capito. Devo dire che il momento di Trunks è veramente bello, per l'impatto che ha sulla storia. Devo essere sincero. Poi ragazzi, ovviamente, scriveteci nei commenti, secondo voi, qual è il miglior momento, eh? Vogliamo il vostro parere. Però io qui, proprio in questa sfida, assolutamente vado con Trunks che divide a metà. Ok, ha scelto Trunks. Allora, c'ha un senso. Questa scena ha un valore per farti capire quali sono le nuove stakes, le nuove sfide di questa serie. Perché Freezer arriva già, se ci fate caso, robotico, proprio per anticipare il tema degli androidi, dei cyborg, insomma degli uomini artificiali che saranno presenti nella storia di Dragon Ball Z. E quindi è un momento che, secondo me, anticipa delle cose e fa capire subito che, nonostante sia tornato Freezer, ci sono delle minacce molto più pericolose. Freezer in questo momento è anche più forte di quando Goku lo ha sconfitto, ma Trunks lo asfalta, letteralmente. Poi lui è fississimo, con quei capelli fluffosi, la spada, il giacchetto, che Goku sconfigga Nappa con questa posa iconica che poi diventerà una posa che rimane nel tempo. È sicuramente un bellissimo momento. Però è un po' telefonato, nel senso che lo aspetti che Goku sia più forte del secondo dei cat... La sfida è con Vegeta, non è con Nappa. Invece la presenza di Trunks era qualcosa che ha veramente sconvolto il mondo di Dragon Ball. Quindi sicuramente, principessa Trunks, anch'io l'avrei votato. A metà Freezer. Questo perché all'improvviso vedi sto ragazzo che si trasforma in Super Saiyan, non sai chi cavolo è, e fa a metà Freezer che Goku per sconfiggere ci aveva messo un sacco di tempo. Una piccola parentesi. Nel video che abbiamo fatto la scorsa volta sono usciti diversi TikTok su quello che ho detto io del Goku Super Saiyan 4. E devo dire che avete fatto veramente dei gran bei TikTok. Bravi. Bravi, vero, vero, vero. Volevo aggiungere questa cosa perché li abbiamo visti bellissimi. Bravi. Ok. E qua, non so se è dura o meno, ma abbiamo... Azz, questa è durissima secondo me. La prima vera morte importante in Dragon Ball, quella di Krillin che poi veramente fa capire la pericolosità del re demone piccolo e poi il sacrificio di piccolo. Cioè, queste due scene sono anche molto legate tra loro. Piccolo che ovviamente si sacrifica per Gohan, spettacolare. Poi abbiamo addirittura la prima vera morte di Krillin. Tra l'altro, più in Dragon Ball. Prima fase di Dragon Ball, l'ucciso da Tamburello, detto anche Tamburin. Stavo aspettando che Mirkone lo dicesse. Ma non me lo ricordo minimamente, ragazzi. Allora, ragazzi. Io mi sono dovuto riguardo a tutti in Azuma perché non mi ricordavo manco le cose importanti, figurati. Piccolo che si sacrifica per salvare Gohan. Ci hanno fatto tantissime statuette perché appunto è un momento super iconico, un sacco di carte su... Effettivamente è vero. Non c'è nemmeno un gashapon di Krillin che muore. Beh, forse non è tanto interessante da vedere. Tordo Giorgio, grazie dell'abbonamento. Grazie, grazie, grazie. Su Legends, un sacco di roba. Per me è assolutamente piccolo che si sacrifica. Gianfranco qua, secondo me, ci potrebbe stupire, forse. Vediamo. No, no. Io vado assolutamente su Piccolo che protegge Goro. Ma poi guardate la bellezza di questa tavola, ragazzi. Sì, sì. Guardate i dettagli sul corpo di Piccolo. Ti dispiace per Krillin, ma assolutamente questa stravince. Però non ti dispiace per Krillin perché non... Ma no! Allora, no. Vabbè, allora, comunque avrei votato anche io Piccolo. Trasformazione di Goku, trasformazione di Gohan. Quale ha dato in me più emozioni e più aspettative? Allora, vi dirò che in realtà nel manga nessuna delle due mi fa impazzire. Cioè, se penso alle loro trasformazioni, penso sempre all'anime. All'anime Kitam. Penso sempre alla Toei, perché loro le hanno fatte meglio. Ma veramente meglio. Cioè, Toriyama, bravissimo. Tratto impareggiabile. Azione fenomenale. Ma le scene della Toei sono qualcosa di spettacolare. E direi Gohan. Però sono influenzato dall'anime. Rimango sul classico. Anche se un mei no hi suona sempre nelle orecchie. Oh messia! Oh messia! Rimango sul classico. Trasformazione di Goku. Mamma mia. Uh! Ma no, ma già così subito? Eh. Cioè, il momento in cui... Potremmo essere davanti alla vincitrice. Il momento in cui Goku si trasforma in Super Saiyan. E il momento in cui Gohan si trasforma in Super Saiyan 2. Questa qua sono stati proprio bastardi, eh. A tradimento. T'hanno messo già subito all'inizio questo scontro. Che sarebbe stato la finale. palesemente. Possibile. Forse. Eh. Io vi dico Gohan, raga. Vi dico Gohan per il momento che c'era contro Cell. Che nessuno poteva batterlo. È dura, è dura. Io facciamo così. Io vado su Goku. Allora, ho fatto una riflessione in queste serie proprio con Angelo. Parlando di Gohan. In generale parlando di Cell più che altro. Perché se vi guardate bene intorno. E guardate quei momenti intorno a Dragon Ball. E cioè videogiochi, film. Che cos'è che poteva essere risolutivo per la sfida contro Cell. Guardate Aciak. Come lo sconfiggono tutti quanti insieme. Guardate Ozotto. Come lo sconfiggono. Guardate Broly. Broly è paradossalmente una copia di Cell. Che nello stesso periodo è stato realizzato. E come lo sconfiggono tutti insieme. E infatti, secondo me, l'idea di Toei era un po' quella. Nel senso che loro poi si sono fatti una loro idea, naturalmente. Poi è arrivato Toriyama e ha cambiato tutte le carte in tavola. Però io ho sempre un po' pensato... È una mia illazione. Però ho sempre un po' pensato che alla fine avrebbero potuto sconfiggerlo solo mettendo insieme le forze. Tutti quanti. Che poi è quello che succede in Dragon Ball Z. Perché sì, c'è Gohan che spara la Kamehameha. Però ci sono anche tutti gli altri guerrieri Z che sparano i loro colpi. Ve lo ricordate nell'anime? Nel manga questo non succede. Perciò ho sempre immaginato che forse Toei avrebbe voluto fargli scatenare tutta la loro energia insieme. Per sconfiggerlo. Perché non c'è l'altro modo. Vabbè, Toriyama ha preso la sua decisione. Torto di mezzo Goku. Gohan deve vincere. Vabbè. Gianframo, c'è la patata bollente. È il solito. Ma che come al solito. Io ho rivisto tutto il video dell'altra volta. Ha fatto così per tutto il video quel pentito. Sì, sì, è vero. No, quel pentito. Ti dico solo. Non so se vi ricordate ai tempi uscivano gli AMV tutti quanti di Gohan che tipo si incazzava. Con i Linkin Park, in the end, tutte le canzoni. Riptonite, in the end. Per tutte le sapate. Bro, dai, è un momento super iconico, super pazzesco. Ma Goku pure, però. È lui che fa da apri pista proprio. Dai, Gianframo. Vabbè, raga. Vabbè, dai, vado da Gohan. Gohan! Vai, Gohan, godo! Ma do, what do you do? Io, allora, probabilmente io sarei andato in finale con Goku. Però, ragazzi, siamo in tre. Due su tre fanno una scelta e io seguo loro. Qua voglio sapere nei commenti voi cosa avreste fatto. Scrivetelo perché, cioè, veramente, resta un attimo spiazzato. Guardalo. Brother, guardalo, Gohan. Lo so, però, what do you do? Ma questa è la tavola. Bisogna per forza sceglierne una. Ma questo Uwufufu è truccato o che cosa? Perché, ma com'è possibile che stiano uscendo queste robe? Vegeta che uccide di proposito le persone al torneo per provocare Go. E quindi avere la soddisfazione dello scontro. Oppure il sacrificio di Vegeta contro Magi. Allora, per me la scelta è scontata. Sacrificio di Vegeta. Però c'ha un suo senso. Lui che uccide le persone per provocare Goku. Approfitta di questo momento per tornare, per sentire di nuovo il brivido della violenza. Che non sente più da un bel po'. Ma è imbazzita, cioè. Allora, qua in realtà è un po' falsata questa. Perché c'è Magi in Vegeta, the Prince of Destruction, sia a sinistra che a destra. È sempre lui il protagonista. Cambia il momento, però. Esatto. Eh, ma questi due momenti hanno due pesi diversi, eh. Eh, certo. Per me è assolutamente il sacrificio di Vegeta. Il momento in cui si sacrifica, dedicato tutto alla sua famiglia, Karot. Gianfran, siamo d'accordo? Sì, dai, sì, vabbè. Vai. Non so come ha fatto Uwufu. Assolutamente non d'accordo. Ma, ma di nuovo, ma, ma è fintissimo. Ragazzi, mi escono gli occhi di fuori. Dai, ma non è possibile sta cosa. Goku che penetra. Goku che viene penetrato. Uwufufu ma ha messo a confronto due cose. Se notate un altro posto quasi... Cioè, sempre un buco nel petto c'è qua. Sì, esatto. A sinistra e a destra. Allora, io non sono mai stato un fan dei... Comunque, se vogliamo vederci qualcosa di filosofico dentro. Il primo vero nemico che Goku ha ucciso e l'ha ucciso così, con questa vehemenza. Poi gli torna indietro, guarda. Tu che hai... Chi di penetrazione ferisce. Di penetrazione perisce. Del primo Dragon Ball, ok? Perché comunque non mi ha fatto mai impazzire. Tranne quando Goku diventava Osaru. Quelle scene mi piacevano da morire. Allora, si sente che quando Goku trattiene così Radish è proprio... Perché Toriyama non sapeva come farlo morire. Cioè, veramente non c'è alcun motivo per il quale Goku debba trattenerlo così. Proprio non c'è. Anche perché prima si è visto che Radish era a terra ferito, stanco, perché Goku gli stringeva la coda. Potrebbe di nuovo provare a stringergli la coda, ma improvvisamente decide che no, è meglio fare questa lock e sacrificarsi con lui. Non è un momento che mi piace di Dragon Ball o di Dragon Ball Z. Cioè, almeno io sento che è proprio fatto per trovare un motivo per uccidere Goku. Quindi voterei Goku che sconfigge il re demoni piccolo. Quindi tra le due per me Radish che muore con Goku. Eh, sono due bellissime scene, però vado da Goku Kid, da Goku bambino io. Ma Rogian, fra tu alla fine voterei sempre per ultimo, te lo dico. Perché lo fa, guarda, sei proprio tragico, lo fa proprio apposta. Gianfranco, sai che? Fa il politically correct, non si vuole sbilanciare. Non si, esatto. Ma come non si sbilanciano? Ma scusate, sono due voti. Si è sbilanciato, sono due voti. O sinistra, o destra. Cioè, non è che può fare chissà che cosa. Non è che sono tre alternative e rimane al centro. O sinistra, o destra. Allora, nonostante questa sia veramente bellissima questa di Goku, io vado a destra con... Cioè, una morte spaziale di Goku, ragazzi, che si sacrifica. Bellissima la morte spaziale. Oh, quell'altra è minuscola, ma che è? È piccola perché molto probabilmente su Wufu è stata votata a poco. Ah, vabbè ragazzi, dai, l'ho detto poco fa, bro. L'ho detto poco fa. Lo Zaru. Comunque, di nuovo, c'è un momento di rabbia. Guardate com'è speculare. Questo Wufu, in realtà, per quanto sia curiosamente azzeccato nelle sue scelte, vedo che ci dà modo di riflettere. Sono due momenti di rabbia, due momenti di esplosione del potere. Da una parte il padre, da una parte... Quello di Gohan è molto particolare, perché chiaramente ci fa comprendere che c'è molto di più di quello che noi vediamo in Gohan. E sappiamo, abbiamo la prova concreta che lui è il figlio di suo padre. Però, a destra, c'è la prima trasformazione in scimmione. Lo scimmione Mannaro, che è una cosa che fa ridere, ma riesce anche ad inquietare. Quindi, io voterei a detto. Bro, l'ho detto poco fa, assolutamente, regà. Quando Goku di Goku o Gohan diventavano Zaru, regà, sono le scene più clamorose. E quando vanno... Sì, sono bellissimi. Eh, esatto, esatto. Che poi, tipo, diventa tutto quando... Eh, poi, vedi... L'altro... La superanza con la maglia di Black... Cioè, di Freezer. Oh boy, non ce la va. È invece piccolissima, che non so se i ragazzi a casa vedono... Che non è Freezer, è lui stesso, però, Golden. Magari faccio uno zoomino, sarebbe Gohan che esce dalla navicella, tutto arrabbiato, per poi prendere a testate Radish. Wow, che grande momento. Pozzaru, assolutamente, non si scherza. Ma totale, Gianvra. Sì, no, sì, sì, vado, 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 vado. Vai, non ci pensiamo più. Ragazzi, vai, però bello d'addio. Qua invece, Blattigan contrariato da qualsiasi loro scelta. Oh, attenzione. E qui... Vabbè, con due momenti diversi, ma veramente diversi. Come potrebbe mai vincere questo momento di Majin Buu? Majin Buu che spara il colpo. E io me lo... ce l'ho stampato qua in fronte. Anzi, aspettate. Per l'occasione arriva Majin Buu. Questo colpo sulle riviste con i trucchi o con i nomi delle tecniche, bla bla bla. Era identificato in quel modo là e io ce l'ho stampato in testa. È il Jinryu Zetsumezu Kouge. Tecnica distruttiva, ammazzato. Però come potrebbe mai vincere questo momento contro quello? Spertenero, bellissimo, di Goku che rivede suo nonno dopo tanto tempo. Noi vediamo suo nonno per la prima volta. Una grande mossa, molto particolare questo di Toriyama, come elemento narrativo. Ogni tanto i morti possono tornare sulla Terra a determinate condizioni. E vedi per la prima volta Goku con i lacrimoni. Cioè, finora tu l'hai visto sempre selvaggio. L'hai visto sempre come una scimmia impazzita. Come un bambino molto pieno di energia. Divertito e divertente. Però qui lo vedi come un bambino vero, no? Che piange, che sta male perché c'è di nuovo il nonno. Cioè, insomma, è un momento super tenero. E c'è con un'altra scenetta piccola. Abbiamo un super buo a destra, addirittura con l'attacco che io amo alla follia. Furio. Cioè l'attacco sterminante del genere umano. Così veniva chiamato su Budokai Tenkaichi 3, mi pare. E poi abbiamo a sinistra però un momento commovente. Guardate il modo in cui Goku corre verso il nonno. Gohan. C'è proprio una corsa con le lacrime agli occhi, bellissimo. Qui anche sulla tavola è stato riportato molto bene. Grazie Filippo. E' stato fatto un bello. Io vado subito io e dico questa ragazzi. Eh, io purtroppo avrei fatto, avrei detto Super Buu, ma perché raga a me Super Buu quando fa quella cosa così poi abbassa la testa per dire che vuoi subito io. È bello del Dio. Attenzione. Sei tosta. Drago Sharon con le mutandine richieste da O'Long. Sì. E a destra Giajirobei che taglia la coda. A Vegeta. Vado prima io. Vado prima io subito. Sentiamo, sentiamo. Senza dubbio Giajirobei. No, ma... Senza dubbio Giajirobei. Allora devo dire, io il dubbio ce l'ho. Eh, non mi tirerei indietro e probabilmente anche io voterei Giajirobei. Sì, 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 anche io voterei lui perché è un momento dove lo si vede brillare di nuovo ed è importante perché sembra sempre un personaggio che non fa nulla ma in realtà è determinante in molti momenti. Contro il redemone piccolo è lui che salva Goku e lo aiuta, scala la torre di Karin dimostrando comunque la sua fermezza e la sua resistenza, nonché la sua forza, che aveva già in qualche modo fatto comprendere ai lettori uccidendo uno degli emissari di piccolo. E poi se lo mangia pure. Una delle poche cose che Goku non ha mangiato, Goku ricordo che all'inizio del manga mangiava i lombrichi, i lupi, ma uno della famiglia demoniaca non l'ha voluto mangiare. Giajirobei l'ha ucciso, l'ha tagliato in due, l'ha arrostito e se l'è mangiato. Un grande. Fortissimo. Il momento di O'Long che esprime il desiderio salvifico di avere le mutandine da ragazza, evitando così che Pilaf diventi il padrone del mondo, è un bellissimo momento. È uno dei momenti più edificanti di Dragon Ball, così si vede anche... Cioè, si capisce che cos'è davvero Dragon Ball. Questo è un momento epico. È lui che salva il mondo e come lo fa con la cosa più sporcacciona di sempre, chiedendo le mutandine per annusare le mutandine. Cioè, voglio dire, è proprio... è Dragon Ball. Però, Giajirobei che taglia la coda di me, c'è tanta roba. Ah, sincero. Non ho parlo di dubbio. Non ho parlo di dubbio. Quella scena lì non è valorizzatissima, secondo me. La scena in cui taglia la coda, lui che c'ha paura, è toccato sotto. Piglia coraggio. Però... Però io direi assolutamente la scena... Però lo fa. Però lo fa. Scusa, eh. I dubbi ce li ho. Io i dubbi ce li ho. Voterei a Giajirobei. Probabilmente sì. Però, cioè, se dovessimo fare un Ufufu super serio, ho long. Perché è il primo desiderio espresso con le sfere del drago. Ti fa capire che cos'è Dragon Ball con questi contrasti assurdi di momenti epici e stupidate. È molto divertente. Quindi, ho long. La scelta di ho long. La 2 su 3, Gianfra, mi dispiace un botto. Adesso riparte il giro. Quindi tutte quelle che hanno vinto adesso si riscontrano. Ok, qui non ho dubbi. Ho long. Allora, qua Vegeta direi che vince 10 a 0 per me. Decisamente. Ehi dai. Non si discute, non perdiamo nemmeno troppo. Non avrebbe vinto per me. No. Ho long, avrei portato avanti. Un po' tempo perché non ne vale la pena. È qua. È qua. È qua. Aspetta, sovrappongo le nostre... Stagriziò. Oppure Trunks diviso in... Che divide... Vorrei scegliere anche io di nuovo Trunks per i motivi di prima, che sono quelli di grande sconvolgimento all'interno della storia Dragon Ball. Però, però, il momento di piccolo è davvero importante per il personaggio. Molto. Quindi credo che in questa stanza potrei... Ah, qua, qua un attimo c'è da capire. Ma sei diventato una paverella? Qua, qua. Qua, 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 qua. Ragazzi, qua che dite? Allora, la parte di piccolo è più emotiva. Io direi quella. Patesemente più emotiva e commovente. Perché tu lì pensi veramente che mi stia per accapotarsi. Pronto per morire. Poi si accascia e succede quello che succede. Eh, ma a sinistra c'è la figaggine del Super Saiyan, di Trunks, di questo guerriero. Eh, vabbè, però, ma questo arriva dal futuro, super allenato, se ne esce, a Freezer lo taglia a metà. Ah, però c'è il suo impatto, c'è il suo impatto, però. Vedi questo, dici... Cioè, tu lì, ma non immagina che tu lo conosci, Trunks. Immagina che non lo conosci e dici, ma questo chi è? Ma che è? Ma che è? Eh, vabbè, sì. Il Super Saiyan lo taglia a metà a Freezer. Oh, che fino a qualche puntata prima Goku ha buscato malamente, poi ha vinto, ok. Non mi hai convinto, bro. Sono ancora per Junior. Gianfranco? Ah, pure io, dai. Junior? Sì, sì. Va bene. E Junior, sì. D'accordo, però, in DC. Eh, vabbè. Anche qua, non riuscirei a votare la scena più figa. Gohan, figo. A parte che io non avrei portato avanti questo, ma... Goku. Voterei Goku bambino che corre dal nonno. Qua il sito è stato un po' cattivello, eh. Eh, vabbè. Gohan Super Saiyan 2. Jazz Frink. Incazzato nero! Ci pensi più? No, no. Mi dispiace un po' per questo Goku che meritava di non finire con questo confronto, sincero, però... Ma tu lo sai, Giuseppe, in Giappone, in qualche Mandarake, potresti trovare delle tavole originali di Dragon Ball? Eh, sarebbe... Non so se le trovi di Dragon Ball. Io non penso che in qualche Mandarake si riescano a trovare. Forse le riproduzioni, quelle probabilmente sì, ma tavole originali di Dragon Ball, non credo proprio. Forse qualche Shikishi, ma anche questo è proprio... Cioè, deve essere proprio raro, raro, raro e costa un botto di soldi. Cioè, non è che lo trovi e costa 2 euro. Lo trovi e costa 2000 euro. Ma è rarissimo anche quello. Pagine di Dragon Ball, vi assicuro, non si trovano da nessuna parte. Le riproduzioni sì. Cioè, ce l'ho pure io. Comunque, morte di Goku e Radish e Goku o Zaru. Goku o Zaru. Ma già non mi piace questo momento, figurati poi paragonato a quest'altro, che è la prima grande volta che Goku diventa scimmione. Perché costeranno un botto, però... Eh, Dragon Ball forse no. Però... E qua, invece, abbiamo un confronto che ci può stare, come momenti. Io, personalmente, ti dico, sceglierei lo Zaru su ogni cosa, ma perché, bro, a me la trasformazione piace tanto, l'ho già detto. Eh, lo Zaru è spettacolare. Però, allora, da una parte abbiamo una scena iconica, che andrebbe votato per quello, e la voterei per quello. E dall'altra parte ho una scena che a me piace ed è sempre piaciuta alla follia. Quindi, bro, iconicità o gusto personale? Boh. Bro, ne devi decidere solo uno. Vola o la spacca, vai. Ma posso votare per ultimo, per una volta? Vai, ok. Gianfranco? Goku Radish, dai. Io, ragazzi, sincero, mi dispiace vanificare il voto di Mirko, ma pure io vado su Goku e Radish. Va bene. Mi hai tolto un pensiero, perché non sapevo cosa votare, onesto. E adesso abbiamo, praticamente, che è la semifinale, non lo so. Allora, due momenti che non mi piacciono nel manga. Cioè, mi piace vedere Gohan trasformato, mi piace vedere Goku che si sacrifica. Li trovo fatti male. Ecco, tutto qua. Gohan. Gohan Super Saiyan 2. Gohan Super Saiyan 2. Dai, però, però, mannaggia. Qui, di nuovo, sacrificio di piccolo. Assolutamente. Sacrificio di Vegeta, sacrificio di piccolo. Sacrificio di Vegeta, secondo me, arriva... È... Il sacrificio di Vegeta è la seconda morte... I sette morti del personaggio di Vegeta. Nella saga di Majin Buu è una morte costante, questo personaggio. Prima si fa possedere da Babba, perdendo tutta la sua dignità. Poi si sacrifica, perché, diciamo, ormai le ho fatte così tante cazzate, è meglio sacrificarsi. Poi viene resuscitato, si fonde con Goku, cosa che non avrebbe mai voluto fare nella vita. Proprio è stata una necessità. E si abbassa a fare questo. Poi devono combattere contro Majin Buu. Perde alla morra cinese. E morte definitiva del personaggio, quando dice... Gambare Kakaroto. Omega wa number one. Forza Kakarot, tu sei il number one. Lì, morte definitiva di... Tremendo. Tremendo. Tremendo! Cioè, per me, durante la saga di Majin Buu, è proprio un lento declino per questo personaggio. E... Quindi, no. Sarai sempre piccolo. Piccolo, che comunque, a differenza di Vegeta, se proprio vogliamo metterlo su dei piatti dell'etica, piccolo, oltre a tentare di ammazzare Goku e gli altri la prima volta, e riuscirci soltanto perché Goku ha voluto che andasse così, e infatti piccolo poi rosica perché dice, sì, lo ha ammazzato, ma semplicemente perché si è messo lì, ma se no non lo ha ammazzato a Goku. Non è che abbia mai fatto chissà quante cose negative, diciamocelo. A differenza di suo padre, che precedentemente aveva quasi sterminato l'umanità, ha fatto le peggio cose, fino a quando non è rimasto rinchiuso dentro il cuoci riso. Secondo me, piccolo avvince 10 a 0 su Vegeta. Vegeta letteralmente il rip-off di Piccolo, che a stavolta è il rip-off di Tenshinhan, che a stavolta è il rip-off di Krilin, che a stavolta è il rip-off di Yamcha. Eh, sacrificio con sacrificio qua. Porca miseriaccia. Brutta storia. Piccolo, per me. Eh, mo' che si fa? Piccolo. Ma io c'ho un grave problemone però, ragazzi, perché io mi sono... Eh, magari non solo Giofra. No! Cattiveria estrema! Eh, ma infatti questo. Ma mi sto molto basando anche sulle tavole, questa qua di Piccolo è clamorosa. Eh, pure io ve lo sto facendo. Benamente clamorosa. Allora, la tavola di Piccolo, forse tra tutte quelle viste, forse è la migliore, non lo so. È la più bella. Io credo che dovremmo fare anche fidamento sulla tavola, perché sennò avrebbero messo le scene dell'anime. Vabbè, sì, forse. Ma è il momento proprio in generale, sia nella lettura, che tu l'abbia visto in anime, o letto il manga, il momento alla fine quello è. Io, devo dire la verità, mi sbilancio come primo... Ma io non dico regaio. Regaio cosa? No, niente, dovevi dire... E poi ci va a pagare. Io forse, 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 forse... Essendo Vegeta il mio personaggio preferito, forse in assoluto, non ne sono ancora certo. Però Vegeta forse sì, io vado col sacrificio di Vegeta, perché mi ha commosso, è partito all'inizio di Zeta, che voleva distruggere la terra, spietato, cattivo, e poi ha tutto un percorso che lo rende più umano. E questo sacrificio è proprio l'emblema del suo cambiamento. Però, scusami, Joseph, nel senso, non ti voglio far scoprire... Però pure piccolo fa... Senti più o meno la stessa cosa. Sì, sì, vabbè, però Vegeta, dai... Vabbè, non è mai stato un grandissimo villain junior, re, se ci pensi... Aspetta, però all'inizio tutta la parte iniziale di Dragon Ball... Eh, Angelo è arrivato una merda. Da torneo. Vabbè, sì, sì, sì. Però Vegeta per me... per me è un fascino superiore. Io andrei con lui, poi ditemi il fascino dei Gremlins. Voi, yeah, yeah. Bro, è una c***a di situazione. Sicuramente Magin Vegeta è più iconico. Poco da fa. Che dite, eh? Però la tavola è incredibile, quella di piccolo, raga. Che devo dire? Che è bellissimo. Gianfra, quindi tu dici piccolo? No. Stasera, Gianfra, non puoi c'è. Dico Magin Vegeta, però, lo dico solo per il momento, magari. Vabbè, ma quello pure... Il sacrificio di piccolo è pure incredibile, secondo me. Avete tolto un altro pensiero. Iron Man, ultimo round. Queste due scene, devo dire, sono solo... Ok. Sono molto, diciamo che ce l'avete. Sono molto fighe, perché comunque Toriyama, sempre bello da leggere, dai. Se dovessi semplicemente giudicare l'arte, l'arte di Toriyama si è molto evoluta negli anni che sono passati tra il momento di Gohan, Super Saiyan 2, il momento del sacrificio di Vegeta. È molto più nervoso durante la saga di Majin Buu, è molto stilizzato, è molto più squadrato, tanto quadrato. Invece, durante la trasformazione di Gohan, si vede anche un'attenzione in più nel riempire il colore della divisa. Sono le pennellate in più, là invece con Vegeta è letteralmente, fa tutto, le linee cinetiche che messe vicino danno l'illusione del riflesso, della luce, dell'aura, no? È uguale, più o meno la stessa tecnica utilizzata anche nella saga di Isabel. Ci sono quei tratteggi nelle pieghe del pantalone, della casacca che ti fanno tentire che c'è una luce intorno. Però è stato veramente riempito, è stato veramente pennellato in chiotto e c'è, secondo me, un livello di dettaglio molto più grande rispetto al disegno di Vegeta. Poi, devo parlare di momenti, sicuramente, il figlio di Vegeta è un momento importante e comunque ritengo una delle morti del personaggio che secondo me è esattamente come la morte di Goku. Sono quelle cose che Toriyama fa perché non sa come farli morire. Veramente non c'è alcun motivo per Vegeta di sacrificarsi. Cioè, arriva soltanto perché sembra che ha fatto così tanta merda che si deve pentire in qualche modo e quindi si è accommiata dagli altri con questo estremo gesto. Gohan semplicemente poi rivela tutta la sua potenza non è, anche qui, non è un momento che secondo me è bello di Dragon Ball perché lui diventa per Saiyan 2 guardando la morte di C-16. Ma chi è C-16 per Gohan? Di nuovo, altro momento che Toriyama non ha saputo sfruttare, cioè, faccio morire uno a caso che proprio mi sembra che C-16 se lo sia portato dietro proprio per farlo morire così che Gohan vedesse qualcuno soffrire ma non del cast principale. Cioè, sembra sempre che Toriyama quando deve far morire qualcuno pesca a caso da un mazzo di carte della sfiga. proprio non mi piacciono proprio quei momenti là come li racconta quindi tra le due forse la meno peggio è quella di Vegeta quindi voterei Vegeta Ehi, papà! Ehi, papà! Eccoci Qua però c'è qualcuno che manca ma anche il Goku Super Saiyan che purtroppo è stato eliminato veramente con grande cattiveria ma qua qua ce la giochiamo Cioè, è stata cattiveria Ma noi ce non ce la giochiamo bro perché Gianfranco ha già detto Gohan Super Saiyan 2 E' la stessa cosa che dico anche io Anche Vegeta e Super Saiyan 2 in questo momento Io, eh sì Ma tu siete due matti Mio personaggio preferito Si gode Maronna, mi muovi Siete due matti Eh, bro, sì Allora, allora Io a questo punto Motiva, Joseph Io sarei andato su Vegeta Voi due dite Gohan A questo punto ragazzi per me il vincitore è Vegeta Per loro due Gohan Adesso scriveteci voi ora nei commenti qual è il vincitore secondo voi Tocca a voi ragazzi Però Vegeta lì che si sacrifica per tutti quanti Goku Carotte Tutti qua Sì ma premi però voglio vedere le percentuali Ah, la percentuale Vabbè, vado con Gohan Via Vediamo un po' Uh, si caricherà Un momento Goku Super Saiyan O no Allora, Goku Super Saiyan Oh, comunque i normi votano questo sondaggio perché primo posto Goku Super Saiyan secondo posto Gohan Super Saiyan 2 terzo posto sacrificio di Vegeta è tasso di vincita 85% Gohan è un tasso di vincita Ah, vedi che comunque la gente vota di più il Goku per Saiyan No, ma guarda che c'era pure Non c'era Ovvio che pure il Super Saiyan 3 Sono usciti Eh, ma non vi è uscito perché avete messo direttamente i sedicesimi avrebbero dovuto allargare un po' di più però poi il video sarebbe stato lunghi Super Saiyan 3 No Eh, ma facciamo le linee altre È perché dovevi fare quello là da 32 round che era troppo lungo No, troppo Però vi voglio dire una cosa cioè Gohan Super Saiyan 2 Gohan e Goku Super Saiyan Goku Super Saiyan insomma noi ce ne siamo trovati contro praticamente quasi all'inizio Sì Quindi abbiamo dovuto fare fuori quasi subito questo Ma altrimenti altrimenti guarda qua come avevi detto due erano praticamente da finale tutti e due se vogliamo Guarda qua infatti la gente sceglie prima uno e poi l'altro Siamo stati un po' sfortunatelli Tocca a voi nei commenti noi ci becchiamo ad un prossimo video e alla prossima Ciao Grandi Eh, ma si soffre sempre quando si fanno i tornei non c'è niente da fare è impossibile Come si fa? Come si fa a essere sempre obiettivi a scegliere sempre bene è complicato Ma detto questo ragazzi io non vi saluto ma vi invito a recuperare la super guida manga di anime click perché finalmente è disponibile in tutte le librerie potete comprarlo su Amazon potete andare in librerie e comprarlo se non l'avete ancora fatto vi lascio il link Amazon per recuperarlo perché questo è il libro della community di lettori appassionati manga in Italia è un mio sponsor perché all'interno del libro di Anime Click c'è anche la prefazione scritta da me ecco qua 101 manga da non perdere segreti e curiosità prefazione di Domenico Caverna di Platone Guassafiero con un'intervista inedita al maestro Hiroyuki Takei autore di Shamankin e vi assicuro che io ho scritto la prefazione ma il resto è scritto bene quindi non vi preoccupate al massimo le pagine mie che sono proprio all'inizio eccole qua le prendete le strappate e leggete tutto il resto insomma Grazie a tutti